Stavano rientrando all'alloggio di vacanza dopo aver acquistato i cornetti per la colazione quando sono stati investiti dalla fiammata sprigionatasi da una bombola di gas. L'incidente è accaduto stamane nel centro storico di Rio nell'Elba. Feriti due giovani veneti, entrambi di 19 anni, residenti uno a Castelfranco, l'altro a Cittadella, in ferie con un gruppo di amici nell'isola toscana. Subito soccorsi dai sanitari della misericordia di Porto Azzurro, i due ragazzi sono stati portati al pronto soccorso di Porto Ferraio. Il più grave, il 19enne di Cittadella, ha riportato ustioni ed inalato fumo ed è stato trasferito con elicottero all'ospedale di Pisa in codice rosso. Ferite lievi per il ragazzo di Castelfranco che è stato medicato all'Elba. Da una prima ricostruzione dell'incidente pare che la fiammata che ha investito i ragazzi sia stata provocata da una fuga di gas dalla bombola di un'abitazione. Sul posto, per accertare l'esatta dinamica dell'incidente, i vigili del fuoco e di carabinieri, il sindaco di Cittadella si stringe alla famiglia. Io mi auguro che il tutto si risolva per il meglio. Quello che possiamo fare è fare un grosso in bocca al lupo al ragazzo che possa effettivamente recuperare, guarire e tornare a casa sereno.